Ragazzi, ragazzi, stiamo parlando di Cristiano Ronaldo! Allora tranquillo perché tutti mi chiedono, Pat, cosa pensi? Allora, io non ho parlato di questo con Cristiano, però se un consiglio è che se lui vuole giocare fino a 2050 deve andare alla Juve. Non c'è un'altra squadra dove lui deve andare. E' semplice, io ringrazio la Juve perché dopo il Manchester si è continuato a vincere, si è continuato a correre e grazie alla Juve. Io penso alla fine non devi mai sputarsi il piatto che ti ha dato da mangiare e per me la Juve sarà per sempre nel mio cuore. Juve! Juve sempre sarà! Quindi, Cristiano, fai la scelta giusta. Vai lì, sai come ti vogliono bene tutti gli italiani, ma devi fare i sacrifici. Quando vai alla Juve è per lavorare, ma lavorare è duro perché questi qua non c'è vacanza. Però è una scelta. O vuoi continuare a giocare fino a 2050 o vuoi giocare un po' così. Però lo so che se vai alla Juve farà il mondiale non da pappagallo ma da protagonista. Da protagonista, fratello!